Ho partecipato volentieri a questo progetto perché mi piacciono le foto vecchie, andare a rivedere i vecchi ricordi e luoghi che adesso non sono più presenti qua, sono cambiati, vite diverse, modo diverso anche di vivere, gli abiti e tutte le circostanze che abbiamo intorno. La foto che ho scelto è la foto di mia nonna, nonna materna, che ho un legame particolare con lei perché è una persona importantissima, lei è qui a 18 anni come io adesso io e mi piaceva vedere come era a 18 anni. All'interno di alcune foto per esempio ho potuto vedere il momento in cui si sono conosciuti i miei genitori, quindi l'occasione in cui c'è stato il primo incontro, oppure piccoli eventi tipo il matrimonio di mio zio e di mio zio, il matrimonio dei miei nonni, piccoli ricordi e comunque sia mi hanno emozionato. Questa foto li trae mio nonno da bambino, circa 3 anni, infatti sale al 1936 e la cosa che mi ha colpito di più è vederlo un bambino piccolo perché non avevo mai visto una sua foto dell'infanzia. E' molto particolare in quanto anche i bambini maschi venivano vestiti con dei vestitini da bambina, quindi è quello che mi ha colpito maggiormente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.